Ciao ragazzi, eccoci qui finalmente a festeggiare questi 6.000 iscritti, io vi ringrazio di cuore, non so neanche come ci sono arrivato questa cifra, ma in qualche modo ci sono arrivato e spero sempre di proseguire sempre nel meglio. Eccoci quindi a questo video del contest. Come funziona questo contest? Come vedi questo è un video un po' lungo, un po' atipico per un contest, però ora ti spiego subito come funziona. Qui di seguito, quando ho finito di romperte le palle a furia di parlare, partirà un video, partirà un video dove ci sono io che giro questa giornata, giro questo video in questa giornata in un conservatorio, nel mio conservatorio, con i miei amici. Cazzeggiamo di qua e di là. All'interno, a casaccio, all'interno di questo video ci saranno 3 sezioni, 3 video anomali, in pratica ci sono 3 accordi, vedrai la mia mano che sono 3 accordi. Io ti chiedo di individuare l'accordo di Re minore e scrivermi il minuto qui sotto come commento sotto questo video, quindi metti caso che scopri l'accordo di Re minore al minuto 2.03, lascia un commento qui sotto scrivendo 2.03 Re minore e tu vincerai il contest. Ovviamente non vincerà solo il primo, ma vinceranno anche altri, poiché i vincitori parteciperanno ad una live, quindi ad una diretta su YouTube, in diretta sul mio canale, credo che sicuramente ne avete viste qualcuna. Mentre il primo invece, vi lascio un commento qui sotto, il primo fortunato che indica l'accordo di Re minore dove si trova, ma è il primo, vince in omaggio questo videocorso creato da me per utilizzare il Gesu Score, questo software gratuito per la notazione musicale. Basta, io non mi divulgo oltre, ti lascio a questo video, ciao! Scendo di casa e la mattina fa sempre un freddo cane. Ore 9 e un quarto, due occhiaie pazzesche, mi accingo da andare in conservatorio. Vediamo come si apre la macchina, tra l'altro tutte le auto si aprono facendo la chiave verso destra, la mia, anche la mia, scusate. No, volevo dire, tutte le macchine si chiusono mettendomi su destra e io verso sinistra. Adesso ci tocca un po' spannare un po' che è un disastro. Tra l'altro guardate quanto è bella pulita la mia auto, spettacolare, spettacolare. Ciao, vado se non arrivo più. Pollini sul sedile, passeggero che mi fa compagnia. Che bello, Beethoven. Allora, appena fatto benzina e guardate la lancetta dove è più della metà. Attenzione, attenzione. Adesso si va anche il vetro, tra l'altro molto spungo. Abbassiamo Pollini. Ora si va, ragazzi. Bel sorpassone, ma non appena fatto. Si va in conservatorio, dai, basta cazzeggiare. Ciao taxi. Ci vediamo dopo. Mi dirigo in conservatorio direzione Comochiasso, intanto mi ascolto il mio bello Pollini. Scendo dall'auto e vado in conservatorio dove mi aspettano i miei amici. Che cosa ci hai portato qui oggi? Ah ma così fa più diretto. Allora, abbiamo un cajon spaccato dal mio amico la grigliata. Perfetto. Una chitarra standard. Ok. Una chitarra baritona. Si. E lo strumento magico, il kazoo. Il flauto magico. Il flauto magico, si. E che cosa serve questo? Serve a incantare i maestri fuori dalle aule e farci sbattere fuori dal conservatorio. Fantastico. Fantastico. Alessio. Buongiorno. Tu cosa ci hai portato oggi? Oggi la mia presenza. Ah no, non hai fatto i compiti, non l'ha portato nulla. Male, male. Finisce male. Eccolo qui, grandissimo pianista. Cosa hai portato? Il pianoforte oggi? Sì. Ok. Dopo noi andiamo a vedere. Grande chitarrista. Moreno. Cosa ci hai portato oggi? Una chitarra classica molto, molto, molto vissuta. Sì? Sì, dopo vi mostrerò. Sogniamo, dai, con le mani gelate. Disastro. Prima non impigliate le dita nelle corde. Potete notare i segni del vissuto. Dell'usura. però. E l'hai preso oggi un gol. Sì, esatto. Sì, esatto. Fantastico. Questo è il gruppo delle ragazze. Buongiorno. Avete fatto i compiti, ragazze? Sì? Qualmai? Io direi, ragazzi, di iscrivervi al suo canale. È obbligatorio. Altrimenti chiudete questo video. Bam! Lo chiudono tutti. E... Luca, se vuoi dirci qualcosa riguardo al tuo canale? Ehm... no. No? Ok. Non vuole dire nulla. Taglia, taglia, taglia. I suoi video parlano da soli, direi. Sì, meglio se suono che se parlo. Ah, magnifico, magnifico. Cosa si fa in conservatorio, ragazzi? Altro che... musica classica... Ehm... Fantastica. Ok, costa una 30 entra a favore, grazie a tutti. Domani classe di chitarrista avrà cinque richieste di iscrizione in più. Ma si fanno ste cose, mia? Da qui di schermo. Sì, sì, sì. Ciao ragazzi. Ma siamo qui da mezz'ora. Per cercare di entrare in quest'aula che ci ha andato. Ok, adesso concentrazione. Ok, concentrazione. Via. Guarda qua cosa ti metto. Via. Adesso entra. A voi doppi sensi, come volete. E' dentro, e' dentro. Ma dai! Il caldo non gira. E' la sette. Si, è la sette. Ah, la sette. Guarda, queste qui sono le mani della pianista. Allora. Che male di merda. E allora va spenta tutta dentro. Eh, non so, se qui non sente nulla va spinta dentro. Allora... Ci vuole qualcuno che svergi in questa porta. Non è, non è in grado. E' troppo corta. Allora... Dai, chiave sette. Cioè, entra dentro tutta. E' slabbrata qui. No, aspetta. Chiudiamo sta cazzo. Non ricordo quello che faremo. Verrà registrato. Un momento no. Che c***o sto parlando? Allora. Che si fa? Improvvisiamo. Improvvisiamo, improvvisiamo. Improvvisiamo su una tonalità... Molto sconosciuta. Che è sol minore. Allora. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.